Cosa ci fa uno come lei al Festival Francescano? Beh, devo dire che credo che tutti gli italiani abbiano recentemente riscoperto un legame ancora più forte con San Francesco, perché questo Papa è davvero un Papa straordinario. Non è soltanto un Papa che fa bene il suo mestiere di Papa, è proprio un uomo che riesce a parlare anche agli atei, riesce a parlare anche a quelli che non credono e questo è una cosa molto importante per tutti noi. E credo che i francescani stiano vivendo una stagione di ebrezza ad avere un Papa come questo qua e sono felice con loro.